Uè mafiosi, davvero dà un po' fame, andiamoci a fare un panino. Dico qualcosa di intelligente? Spera chi esce? Dalla questa il cambio. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so io. Ragazzi noi mangiamo il panino appena fatto con tanto amore. Vi ringrazio Mauver e abbiamo sobrato i 40 secondi.